L'Italia inizierà questa Coppa del Mondo con la Namibia, quindi la nostra prima partita, il nostro primo obiettivo è quello di vincere. Sappiamo bene che senza determinazione, senza avere veramente la volontà di imporsi contro questa squadra, sarà una partita difficile, perché tutte le squadre alla Coppa del Mondo cercano di dare il meglio, soprattutto le prime partite sono sempre molto difficili. La Namibia è una squadra che rispettiamo tantissimo, ma è altrettanto vero che noi siamo determinati a vincere questa prima partita, quindi sicuramente è un'Italia determinata, soprattutto un'Italia che ha la voglia di iniziare bene questa Coppa del Mondo. Per me questo è il quinto mondiale, quindi motivo di grandissimo orgoglio. Ovviamente adesso essendo qui, la mia testa è solo puntata sulla partita della Namibia, quello che devo fare in campo, quindi i numeri o comunque i raggiungimenti personali sono importanti, sicuramente fanno piacere a ognuno di noi, però per me mentalmente oggi la cosa più importante è focalizzarmi sulla mia prestazione per la squadra e soprattutto questa prima partita con la Namibia che per noi rappresenta il nostro primo obiettivo e l'unica cosa a cui pensare.